musicman, hamburger, tutto a zero un ribocco, stessi cavi red sound, stesse condizioni, tutto a zero un-bucker si presta un po più le armoniche essendo un po più aperto il suono ritorniamo sul music busto i bassi e le altre e ritorniamo al rebop busto i bassi e le altre single coil alti a zero leggermente bustate le basse un po' di bassi e le altre un po' di bassi e le altre a livello di equilibrio il music man ha un po' più di peso sul corpo quindi tende a ad alzare il manico mentre il rebop ha più peso verso il manico ma tiene in perfetto equilibrio orizzontale con la tracolla anche se il manico ripeto è leggermente più pesante del corpo ma comunque resta in equilibrio anche con la tracolla poi in più c'è un trimmer interno per aumentare il gain o diminuire il gain che è molto utile e di fabbrica impostato a metà in più ha la possibilità di single coil in posizione jazz bass anni 60 cosa che di norma il classic music man non ha e anche il gloss diciamo gioca molto sulle frequenze infatti come è notato il music man è un po' più enfatizzato di medio alte rispetto invece al suono un po' più naturale aperto e caldo del rebop che è anche molto più leggero a livello di manico invece diciamo che il rebop è leggermente più cicciotto sul centro ma è molto agevole anche il fatto stesso che non ha il gloss diciamo scivola meglio ha meno grip rispetto al music man spero sia stato utile ciao 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 ciao